Pronto, sì? Cosa? Sì, sì, ti sento, ti sento. Ma non capisco, non capisco, non capisco. Ok, 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 ciao, ciao, ciao. Sento, ma non capisco. Sento, sentire. Capisco, capire. Vediamo come funzionano questi verbi al presente. Io sento. Tu senti. Lei, lui, sente. Noi sentiamo. Voi sentite. Loro sentono. Capire. Togliamo l'ultima parte. Io capisco. Tu capisci. Lui capisce. Capisce. Noi capiamo. Voi capite. Loro capiscono. Due verbi del terzo gruppo, in ire, ma diversi. Sentire, come aprire, dormire. Capire, come pulire, oppure finire. Sotto questo video troverete il PDF per fare pratica con degli esercizi. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre qui, a Torre di Valverde. Ciao. Ciao.